L'impiego di terapie innovative, il ricorso a farmaci che hanno indicazione in altre condizioni patologiche e l'identificazione di percorsi diagnostico-terapeutici dedicati è estremamente importante nei pazienti affetti da malattie rare a bassissima incidenza. Per questi pazienti non esistono terapie codificate. Questi pazienti hanno bisogno di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari. In questo il nostro istituto si dedica alla ricerca di terapie innovative e percorsi adattati alle loro esigenze.